Buongiorno a tutti, sono Roberto Pudu della Soim Studio Immobiliare di Cagliari. Oggi siamo appunto a Cagliari e quella che vi sto per mostrare è un nuovo appartamento, nuovo sul mercato. Un ampio appartamento, infatti questo è un quadrivano, abbiamo un ampio soggiorno, cucina abitabile, due camere, una camera matrimoniale e due bagni. In più nella parte condominiale abbiamo una cantina e un posto alto. Quello che vedete alle mie spalle è l'ingresso e siamo nella prima parte di soggiorno. Perché dico la prima parte? Perché tramite questo ampio arco si entra nel vero e proprio ampio soggiorno. Abbiamo più di 30 metri quadri solo di soggiorno, da questa parte qua, come potete vedere, in questo momento divano con parete soggiorno, l'ampio soggiorno è illuminato da una finestra a tutta altezza e una porta finestra a treante che porta sul lungo balcone, che adesso vi faccio vedere. Allora, sul balcone, porzione di balcone che gira in maniera particolare e porta l'illuminazione alle due camere, camera numero uno, camera numero due e da questa parte un piccolo e utilissimo ripostiglio. Da questo balcone rientriamo dentro e proseguiamo la visita. Di nuovo nel soggiorno per andare a visitare direttamente la cucina abitabile. Cucina abitabile che sta esattamente al di là di questo muro, che potrebbe tranquillamente diventare un open space. Da qui, piccolo disimpegno e siamo nel mondo dei menù, nel mondo dei pranzi o delle cene. La casa è completamente libera, a vostra disposizione tra l'altro con una cucina installata neanche da tanto. Cucina abitabile che tramite finestra e porta finestra accede direttamente al balcone che dà sul coltile posteriore. Balcone con un lavabo e sempre la stessa forma particolare che dà l'illuminazione al bagno e da questa parte alla camera matrimoniale. Il pofo auto chiaramente sul resto del coltile condominiale. Andiamo a visitare la zona notte. il riscaldamento è centralizzato condominiale a radiatori e abbiamo la predisposizione negli ambienti per quanto riguarda la climatizzazione. Zona notte è accessibile tramite la porta a metri ed è così distribuito il cuore dell'appartamento. Da questa parte il bagno padronale, camera matrimoniale, secondo bagno e le due camere. Iniziamo da questa parte con la prima delle due camerette. Abbastanza ampia come metratura superiore alla norma di quelli che possono essere i normali 9 metri quadri. Abbiamo quasi più di 12 metri quadri con porta finestra direttamente sul balcone che dà direttamente sulla strada. Lasciamo questa stanza e entriamo nella seconda. Seconda cameretta più o meno uguale alla precedente, leggermente più piccola, sono più o meno 11 metri quadri, ma sempre con porta finestra sul balcone principale. Da questa parte invece vi sto per far vedere il secondo bagno è un bagno a direzione forzata, quindi un bagno cieco, come di si vuole. Non essendoci l'illuminazione, quindi abbiamo poca possibilità di mostrarvelo nel pieno comunque della sua luminosità. Un bagno completo vi dè WC e da questa parte lavello e qui abbiamo la doccia. Ok? Quindi comunque abbastanza ampio nella sua completezza. Da questa parte l'ultimo mano che vi propongo è la camera matrimoniale. Molto più ampia dei normali 14 metri quadri, siamo quasi dai 16 ai 17 metri quadri, sempre con porta finestra che dà direttamente sul balcone del cortile posteriore. E ritorniamo per i dettagli e per i saluti direttamente nel soggiorno. Ripercorrendo il disimpegno è questo l'ingresso. Vi abbiamo presentato in uno dei quartieri residenziali più belli di Cagliari, ce ne sono diversi, ma probabilmente questo è uno di quelli più ricercati. Un ampio appartamento, tipologia quattrivano, abbiamo un ampio soggiorno più l'ingresso, cucina abitabile, tre camere di cui una matrimoniale e due bagni completi. doppia esposizione, due verande, da una parte principale su strada, dall'altra nel quartiere condominiale, più una cantinola al piano terra e un posto alto. A vostra disposizione lo trovate chiaramente sul nostro sito www.soim.com e poi alcune informazioni, chiaramente nonché il video, sulle mie pagine professionali YouTube, Facebook, Instagram, Roberto.agente immobiliare. Io vi ringrazio, vi saluto e magari questa potrebbe essere la vostra futura casa. Posso vendere anche la vostra. Ciao a tutti!